Amici di Teledeon, bentrovati a questo appuntamento con l'inizio del triduo pasquale. Siamo nella parte terminale della Quaresima e l'avvio di questo periodo santo dell'anno che è appunto il triduo pasquale dove si va a celebrare la passione, la morte e poi per arrivare alla ressurrezione del Cristo. Siamo in compagnia di padre Francesco Mazzotta, direttore responsabile di Teledeon e rettore del Santuario del Santissimo Salvatore. In questi tre giorni di giovedì, venerdì e sabato santi cercheremo di anticipare quelli che sono i temi della giornata, quelli che sono i temi di questo periodo così importante, così forte per la fede cristiana. Un periodo che giunge dopo la Quaresima, che è stata una Quaresima molto diversa da tutte le altre, da tutte le Quaresime a cui eravamo abituati. Un periodo delicato, un periodo in cui siamo stati costretti a non andare più in chiesa, a non andare più a messa e abbiamo seguito le celebrazioni soltanto attraverso gli apparati televisivi oppure attraverso i social. È stato un periodo completamente diverso da quelli a cui eravamo abituati, padre Francesco. Sì, diciamo che è stata una quarantena nel vero senso della parola, perché poi dopo siamo sempre in un qualche modo in terminologie similari, di quarantena, quaresima, 40 giorni, che avrebbero dovuto essere di digiuno, di penitenza, di preghiera, di carità, li abbiamo vissuti in una maniera molto particolare e negli ultimi giorni sembra che i dati comincino ad essere un po' più confortanti rispetto a quello che ci attende, ma sappiamo che il tutto non sarà una passeggiata, perché appunto al di là delle restrizioni alla nostra libertà personale che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in questo periodo e che ci hanno portato a vivere una quaresima religiosa anche molto diversa rispetto a quella degli altri anni, ci porteranno a vivere una Pasqua molto diversa. In realtà queste restrizioni hanno modificato, modificano le nostre abitudini sociali e la ripresa appunto sarà difficile e lunga. Qualcuno dice potremmo stare tranquilli da questo punto di vista, questo punto di vista sanitario, probabilmente nel momento in cui avremo un vaccino, cioè avremo una cura in un qualche modo a questa malattia, ma quello che non avrà ucciso il virus probabilmente avrà ucciso il cambiamento dei comportamenti sociali e soprattutto la realtà economica che è stata profondamente penalizzata da questo frangente. La questione la vediamo quotidianamente anche all'interno delle nostre realtà, delle parrocchie che sembrano chiuse, nel senso che le chiese sono chiuse durante anche le celebrazioni eccetera, però rimangono per fortuna attive su cose che magari non vanno a finire sulle prime pagine dei giornali, nell'attenzione alle persone che sono sole, che non riescono a fare la spesa, che non riescono più nemmeno ad avere i soldi per arrivare al fine giornata, non al fine mese, per cui vengono a chiedere da mangiare, alcuni vergognandosi, proprio piangendo, avrebbero bisogno di essere abbracciati, sostenuti e le norme ci impongono addirittura di tenere la distanza. Ecco, questa prima trasmissione ci porterà ad analizzare quel che avviene nel Giovedì Santo, il primo giorno del Triduo. Ma prima di arrivarci è opportuno ricordare anche che la Settimana Santa, soprattutto al Sud, soprattutto in Puglia, è una settimana fortissima della presenza di segni, simboli e di devozione della pietà popolare. E quest'anno non sarà possibile partecipare a nessuna delle processioni a cui siamo abituati appunto a partecipare, che fanno parte proprio del DNA, della cultura cristiana di questo popolo. Sul cristiano ci avrei qualche problema, però diciamo che fanno parte della cultura di questo popolo. E anche se molte parrocchie, molte diocesi si stanno organizzando per trasmettere anche qualche rito all'interno delle chiese chiuse, ma con espressioni della devoluzione nei confronti dell'addolorata, per esempio, o quelle che sono le processioni dei misteri del Venerdì Santo. Ecco, tutto questo fiorire di iniziative da parte dei parroci, delle diocesi, in realtà mostrano proprio appunto un attaccamento molto forte del popolo, dei fedeli nei confronti di questi appuntamenti. Qual è la valutazione che si può fare? Che può essere naturalmente detta in controluce. No, vabbè, io penso che su queste questioni, ecco perché facevo prima la battuta, fanno parte della cultura di questa, della realtà nella quale viviamo, soprattutto del territorio nel quale viviamo. Il problema è che la religiosità popolare è comunque una forma di religiosità che ha dei valori, che esprime dei valori e che i cui riti si perdono tante volte nella notte dei tempi, potremmo dire. Sì, almeno quelli di questa zona sono tutti nati tra il Cinquecento e il Seicento. Quindi stiamo parlando di tradizioni secolari e plurisecolari. Con tutti però i pro e i contro che queste realtà hanno. Perché? Perché poi le culture popolari, le tradizioni popolari andrebbero in un qualche modo spogliati da quegli aspetti che poco davvero hanno a che fare con una vera religiosità, con quella che Gesù parla di una religiosità del cuore, cioè una religiosità che riguarda la realtà personale in quanto tale, non soltanto la parte esteriore e quindi, diciamo, spogliati da queste cose, in realtà potrebbero davvero aiutare tante persone ad esprimere la fede in maniera corretta. Purtroppo, invece, tante volte rimangono soltanto elementi di folclore che lasciano poi il tempo che trovano. Tant'è che poi, se effettivamente noi che andiamo a quelle processioni, noi che partecipiamo a quei riti, fossimo davvero cristiani convinti, la nostra società sarebbe tutt'altro. E invece non lo è. Siamo un popolo di gente che è abituata ad arrangiarsi, ad aggiustarsi le norme per fatti suoi, ad imbrogliare le persone, eccetera. Adesso, nella situazione di emergenza che si è creata, c'è già chi pensa come sfruttare in positivo, quindi cercando di sfruttare le norme dello Stato, eccetera. Diciamo delle scorciatole. Eh sì, per, tranne comunque vantaggio. E noi siamo quello. E questa realtà, queste realtà, questi modi di pensare, di fatto poco hanno a che fare con la religiosità, quindi con la vera religione, con la vera fede, sono incompatibili, dovremmo dire, no? Quindi... Ma sono linguaggi di fede che andrebbero sostituiti. O c'è una possibilità di contemperare le esigenze? Cioè, soprattutto i giovani hanno un approccio nei confronti di queste manifestazioni esterne molto distaccato, mentre appartengono a una pletora di fedeli di una certa età. C'è un modo per contemperare queste due chiavi di lettura? O sono manifestazioni destinate poi ad avere soltanto ruolo quasi economico per l'industria della cultura, l'industria del folklore, l'industria del turismo, e quindi sempre meno religiose? Guarda, bisognerebbe avere in un qualche modo la palla di vetro per rispondere a questa domanda. Però quello che si vede sicuramente è questo, che chiaramente c'è un atteggiamento molto meno incantato, quindi un atteggiamento disincantato, da parte delle nuove generazioni nei confronti di queste manifestazioni. Allora, sono manifestazioni che nell'alveo dell'aspetto religioso tendenzialmente andrebbero a scomparire, quindi diventano sempre più manifestazioni folcloristiche e culturali da utilizzare, da sfruttare all'interno di un programma di prologo, non so, di agenzia del turismo locale. Questo perché? Perché evidentemente non riusciamo ad adeguare alle esigenze del nostro tempo gli aspetti veri della religiosità, cioè non riusciamo a spogliarli da tutte quelle forme, da tutte quelle modalità, da tutte quelle sovrastrutture che sono legate a delle culture, a dei modi di vedere, a dei modi di fare che non ci sono più. Cioè la fede o risponde a delle esigenze, cioè quello che la parola di Dio cerca di mettere in evidenza è il per noi, il per me della salvezza, cioè cosa ha fatto, cosa fa Cristo per me. Perché se Cristo per me non fa nulla, cioè se io non percepisco l'importanza dell'opera della salvezza che Gesù Cristo opera per me oggi, questa cosa per me diventa inutile. E proprio questa riflessione ci porta ad entrare nel tema di questa prima puntata che ricordiamo va in onda soltanto il giovedì santo, domani ne faremo un'altra sul venerdì santo e la terza la faremo sabato mattina con il sabato santo, quindi con la vigilia di Pasqua, con l'analisi anche della veglia di Pasqua. Parliamo proprio dei simboli, perché questo giorno, il primo giorno del triduo pasquale è quello che poi conduce alla messa in cena domini, alla messa della cena del Signore, dell'ultima cena, che è davvero carico di simboli e che ci immettono appunto davvero nel periodo del triduo pasquale. La prima considerazione che va fatta è che quest'anno abbiamo eliminato l'antefatto, cioè la messa che si tiene in genere il mercoledì santo o il giovedì mattina della messa Crismale. Ecco, questa eliminazione è già un primo dato su cui ci dobbiamo soffermare. Vabbè, intanto va detto che la messa Crismale non è stata eliminata, è stata spostata a data da destinarsi e quindi non è stata, diciamo, eliminata. Probabilmente sarà aggregata alla Pentecoste. Alla Pentecoste, sempre che sussistano le condizioni, perché poi appunto qua sembra che la pillola ce la indorino tutti i giorni. Perché se ti dicono, guarda, siamo chiusi fino a settembre, cioè in questi giorni il giochino lo stanno facendo con le scuole, ma è chiaro a tutti ormai che prima di settembre, e sarebbe già grasso che cola, le scuole non riapriranno quest'anno. Quindi, se questa è la prospettiva, è chiaro che non tutto è scuola, ma i tempi davvero sono lunghi e quindi vedremo che succede a Pentecoste. Ma, diciamo, il giovedì santo, di natura sua, comunque è un giorno particolare. Un giorno particolare perché è un giorno che, dal punto di vista delle liturgie, diciamo comuni, e che poi sono le liturgie principali, cioè le liturgie eucaristiche, in realtà è un giorno di festa. È un giorno di festa perché è un giorno che, in cui si ricorda la nascita del sacerdozio ministeriale, quindi è la festa dei preti e quindi dei vescovi che partecipano in questo sacerdozio. È cosa che normalmente viene ricordata appunto nella Messa Crismale che il presbiterio, insieme poi a diaconi, a tutti i fedeli, religiosi, eccetera, celebra attorno al vescovo in ogni catterdale e quindi diventa, diciamo, il momento unitario e la festa della comunità diocesana, della Chiesa locale in quanto tale. Quindi, si celebra in bianco, quindi è un giorno di festa. Così come poi la sera la Messa in Sonadomini, cioè la Messa in cui si ricorda la nascita dell'Eucaristia, e quindi il sacramento per eccellenza, il sacramento più importante, il sacramento culmine, fonte di tutti i sacramenti, così come lo definisce la Sacro Santo Concilium, anche quella viene celebrata in bianco. Quindi è un giorno, da questo punto di vista, di festa. È una sorta di stacco tra la Quaresima e il periodo Pasquale. Perché quello che, diciamo, poi va notato è che tutte le altre celebrazioni, per esempio l'Elodipe, l'Ufficio Lettura, eccetera, fino al momento del Vespro, rimane comunque nell'alvo quaresimale con il vestito viola. Quindi il giovedì è in realtà un giorno, come dire, duple fase di passaggio tra il periodo quaresimale e il momento culminante della celebrazione della fede cristiana che è il momento del triduo. Quest'anno, appunto, la messa crismale in cui si benedicono anche gli oli che poi vengono utilizzati nei vari sacramenti è stata, appunto, diciamo, rimandata. Sospesa. No, è stata rimandata, appunto. Non è una sospensione perché dice sospesa. è stata rimandata in data utile da destinarsi in altra data. Potrebbe essere carino, appunto, poterla celebrare prima della Pentecoste, visto che siamo comunque nell'alveo del periodo pasquale. Già di suo la messa crismale può essere spostata in altro giorno rispetto al giovedì mattina, giorno in cui viene normalmente celebrata. tant'è che, appunto, diocesi come Andrea da diversi anni la celebra nel mercoledì sera e l'anticipano, quindi, in modo tale da dare alla possibilità alla gente che lavora, alla gente che la mattina o giovedì non potrebbe partecipare a quella messa di poterlo fare. E diverse diocesi sono ormai adeguate a questo. Questa cosa salta. ma la cosa poi che, diciamo, sarà la particolarità nel tempo particolare sarà proprio tutta la celebrazione dei riti del triduo pasquale. Perché? Beh, perché come sempre ricordo in ogni trasmissione dove è tratto di questo argomento, il triduo pasquale in realtà è un'unica celebrazione distinta in tre giorni. Parte dalla cena domini e quindi dalla messa in cui si ricorda l'istituzione eucaristia del giovedì sera e termina con la benedizione della veglia pasquale sabato notte quindi a cavallo tra il sabato e la domenica di Pasqua. È un'unica celebrazione in tre momenti tant'è che inizia con nel nome del padre del figlio del spirito santo della messa in cena domini e termina con la benedizione solenne di Pasqua. Sì, diciamo che alla fine della messa in cena domini non c'è la benedizione perché si prosegue con un momento di adorazione che è particolare quella che normalmente viene fatta deponendo il Santissimo in un altare apposito che quest'anno non si farà. Le particolarità appunto di quest'anno che riguardano proprio la messa in cena domini sono sostanzialmente due. quella è una messa che viene ricordata sì noi preti lo diciamo sempre o gli addetti ai lavori diciamo quelli che un po' ci hanno bazzicano un po' queste cose sanno che quella è la messa in cui si celebra l'istituzione dell'Eucaristia è una messa che inizia normalmente portando in processione gli oli benedetti la mattina o il giorno prima con la messa a Crismale e soli non ce l'abbiamo perché sono quelli dell'anno scorso quindi non si potranno portare in processione due viene ricordata questa messa tanto per la questione folcloristica lasciami passare questo della lavanda dei piedi folcloristica ma che è anche il senso che hanno un significato del servizio profondo eccetera tutto quello che volete voi ma la ricordano come la cosa della lavanda dei piedi da bambini c'ho sempre questo ricordo l'aspettavamo il giorno di santo per vedere questa cosa della lavanda dei piedi e tutto il resto che aveva tutto un suo fascino una cosa che di suo però è facoltativa non è obbligatoria ma che ogni anno acquista un significato proprio simbolico forte tant'è che il Papa spesso va dei carcerati va dei poveri cioè ha un significato molto profondo che quest'anno è vietato quindi non si potrà fare e in più non ci sarà la preparazione di un altare apposito o di altari appositi per deporre il Santissimo perché il Santissimo verrà semplicemente riposto nel tabernacolo così come normalmente si fa quindi è una celebrazione di fatto più o meno è monca anche perché poi dopo alla fine non ci sarà il popolo è una celebrazione in cui molti preti normalmente concelebrano e quest'anno comunque c'è una limitazione pure sulla concelebrazione quindi alla fine nel decreto scritto Pescovo Nostro saranno 7-8 persone quelle che possono stare in chiesa e quindi diciamo è tutto un altro mondo diciamo appunto che il fatto che non si faccia l'altare della riposizione significa anche che non ci sono i cosiddetti sepolcri che è una delle tradizioni a cui le persone sono più i fedeli sono più legati perché se ne vanno in giro a fare il suo giro dei sepolcri cosa che ogni volta mi arrabbio specialmente con me continuo a sottolineargli questo aspetto dei sepolcri perché non esistono i sepolcri cioè sono gli altari o l'altare della riposizione dove c'è Santissimo quindi Signore Risorto non un morto che vado a visitare come purtroppo diciamo qui c'è il dramma tante persone che muoiono in questi giorni muoiono da soli completamente questo è uno dei drammi nei drammi della pandemia di fatto diciamo non si può andare a trovare quello che sta morendo e che muore quindi nella più profonda delle solitudini è una cosa inumana probabilmente questa non posso fare il giro dei sepolcri degli altari della posizione a trovarsi però come hai già sottolineato questa celebrazione la prima del triduo ha soprattutto un aspetto che è quello diciamo fondante per noi quello dell'istituzione dell'eucaristia quella è la cosa che viene ricordata con delle formule apposite all'interno della celebrazione non solo ma la seconda lettura perché noi abbiamo quattro racconti dell'eucaristia tre sono riportati dai vangeli cosiddetti sinottici Matteo Marco e Luca Giovanni non racconta dell'istituzione dell'eucaristia nell'ultima scena di Giovanni invece trova posto il racconto della lavanda dei piedi e quindi si legge il vangelo della lavanda dei piedi e non c'è il racconto dell'istituzione eucaristica Giovanni scrive il vangelo per ultimo dà per scontato che questa cosa sia nota molto probabilmente e mentre troviamo un quarto una quarta descrizione dell'istituzione eucaristica nella lettera e corinzi di 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 Paolo che viene poi letta come seconda lettura quindi c'è comunque nelle letture e racconto dell'eucaristia nella versione di Paolo e poi troviamo diciamo il ricordo dell'istituzione eucaristia a modo particolare nel nel canone il canone è la parte centrale dove l'eucaristia viene consacrata diciamo che viene raccomandato il canone che viene raccomandato è il primo canone quello romano quello più lungo e all'interno di quel canone sono previste le formule apposite che si dicono soltanto si leggono soltanto nel giovedì santo dove appunto viene ricordato in modo particolare che questa è la sera in cui Gesù istituisce l'eucaristia siamo arrivati praticamente in chiusura di questo primo spazio ricordo che ce ne sarà un secondo domani venerdì santo e l'ultimo sabato mattina sabato santo non possiamo non parlare di tutte le celebrazioni che ci apprestiamo a vivere in questi giorni proprio come Teledeon abbiamo fatto quest'anno uno sforzo straordinario per andare incontro alle esigenze dei fedeli che sono rimasti privi dell'incontro col Signore perché non possono andare fisicamente nelle chiese abbiamo portato noi la chiesa nelle case dei nostri fedeli oggi domani e sabato faremo anche qui uno sforzo straordinario anzi anche domenica la domenica di Pasqua uno sforzo straordinario perché come vedete questo spazio che abitualmente è occupato dalla messa del mattino delle 7 e 15 in realtà lo stiamo occupando spiegando qual è il senso della giornata e così avverrà nei prossimi giorni ma noi avremo due celebrazioni delle due messe in cena domini sia quella di Molfetta che quella dal santuario del Santissimo Salvatore che per tre giorni di fatto sostituisce la cattedrale di Andria quindi della diocesi ed è sicuramente un grande onore questo che è legato proprio alla presenza di Teledeon ed è opportuno ribadirlo proprio per consentire al vescovo di incontrare i suoi fedeli in questo momento così travagliato ma sono due celebrazioni consecutive quella di Molfetta e quello di Andria sì abbiamo dato la possibilità diamo la possibilità a due chiese di poter comunque incontrare quindi i due vescovi in realtà perché poi sono le celebrazioni dei pastori delle due diocesi di incontrare i loro fedeli di riferimento poi tra l'altro si dà anche a loro la possibilità di andare molto al di là degli spazi che normalmente darebbero loro visibilità cioè Teledeon comunque copre le quattro regioni del sud Cuglia Basilicata Calabria e Campania più ormai con tutti gli strumenti multimediali e anche con le dirette Facebook a cui alcune di queste celebrazioni saranno legate dalla possibilità comunque a chiunque di poter partecipare a queste celebrazioni questo è un aspetto molto importante perché lo diciamo per coloro che hanno parenti e soprattutto i molfettesi che hanno parenti negli Stati Uniti o in Australia che possono seguire quindi i riti della settimana santa proprio su Teledeon attraverso il sito internet www.teledeon.it ma anche attraverso le nostre pagine Facebook e attraverso lo streaming che appunto arriva in tutto il mondo sì ci sono le app per gli smartphone le app per le smart tv l'app per la Fire Stick che ormai è diffusissima di Amazon quindi diciamo alla fine la possibilità sono enormi e penso a tante persone che magari appunto in questo periodo ritornerebbero dai luoghi di lavoro di studio nelle loro terre che non si sono potuti muovere che non si potranno muovere che comunque potranno in un qualche modo stare vicini ai loro cari ai loro affetti alle loro tradizioni in un qualche modo attraverso la televisione attraverso le nostre trasmissioni quindi si dà la possibilità comunque a queste due chiese di poter mantenere la visibilità nei confronti soprattutto dei fedeli di riferimento e in generale anche di offrire un servizio a tante persone che comunque non avrebbero la possibilità di partecipare in più abbiamo cercato anche di offrire delle soluzioni ulteriori di preghiera o di momenti di preghiera ulteriori per far vedere come anche la preghiera della chiesa sia molto ricca e c'è una preghiera ufficiale che viene quasi del tutto ignorata anche all'interno delle nostre parrocchie a vantaggio poi di tutti quei riti popolari di cui si parlava prima per esempio uno degli sforzi sarà quello di dare l'appuntamento alle 9.30 in diretta oggi domani e dopodomani con l'ufficio delle letture che presenta il tema e una meditazione ulteriore sulla parola di Dio del giorno più le lodi sempre in diretta in modo tale da marcare da caratterizzare anche da appunto di stella preghiera il giorno che viviamo e in più appunto ricordiamo 9.30 tutti i giorni venerdì e sabato giovedì venerdì e sabato su Teledeon alle ore 9.30 e poi ricordiamo che alle 17.20 ci sta anche qua un appuntamento fatto per i più piccoli per i bambini che sono quelli poi alla fine un po' più dimenticati all'interno della nostra delle nostre realtà anche perché non hanno possibilità di uscire non vanno a scuola molti ormai sono insofferenti perché insomma il bambino di suo non può vivere carcerato dentro casa e noi abbiamo fatto lo sforzo anche in questi giorni di proporre un momento per loro un momento che ci terrei tanto a trovare comunque le persone perché non è facile organizzarlo che potesse continuare anche al di là magari nel fine mese aprile e mese di maggio almeno finché non si sbocca la situazione e termini diciamo la situazione di emergenza e allora noi ci fermiamo per questa mattina per questo primo appuntamento diamo l'appuntamento a domani alla stessa ora per annunciare i temi del secondo giorno del triduo grazie grazie a voi a domani a domani Grazie a tutti.